ciao sono fra fabrizio ciao sono fra manuel non so se lo sapete ma oggi abbiamo lanciato un nuovo sito web abbiamo lanciato questi due soggettoni quindi già è tutto a dire andate da vedere www.giodom.org è un nuovo progetto che abbiamo pensato per i giovani dove praticamente vuole mettere insieme da un lato il lato organizzativo della nostra vita di pastorale giovanile e poi anche un lato invece riflessivo perché siamo frati per cui pensiamo che tutti e due gli aspetti sono necessari per la nostra vita da giovani e non soltanto giovani naturalmente è un sito di pastorale giovanile si rivolge a tutti ma in modo particolare a voi che avete fra i 18 a circa 35 anni quindi tutti potrebbero andare a vederlo ma se sei un giovane è il contenuto adatto quindi visita il sito www.giodom.org spargi la voce a tutti fai da spammatore aiutaci in questa santa opera di spam e buona domenica di pentecoste alla prossima ciao